Un leone blu con la scritta conservatori e riformisti e i colori del tricolore. Sono queste le caratteristiche del simbolo del nuovo partito politico che Raffaele Fitto ha presentato insieme a Jeffrey Van Orden, il vicepresidente dei conservatori del Parlamento europeo. Siamo alternativi a questo governo e nel centrodestra guardiamo al futuro. Un messaggio quello di Fitto indirizzato prima di tutti a Silvio Berlusconi. Dopo l'addio a Forza Italia, l'eurodeputato ha tenuto a battesimo il suo movimento che in sette punti ha sintetizzato il manifesto programmatico. Dopo il gruppo al Senato i fittiani si apprestano a dire addio anche al gruppo Forza Italia alla Camera. L'obiettivo dell'eurodeputato conservatore è quello di rendere il movimento più radicato sul territorio, tant'è vero che da settembre partiranno una serie di assemblee da nord a sud. Tra i punti più importanti del programma del movimento di Fitto c'è l'Europa e la necessità di avere più peso nell'Unione e la battaglia per ridurre le tasse sia per i singoli cittadini che per le imprese.